Se lui va... Eh sì, è facile, davvero, davvero. Iniziamo. Cioè, mancavo punta a destra, punta a destra, laterale. Uno, due, tre e quattro a sinistra, sì? Bene? Sì, no? Sì, no? Sì, no? Per quanto? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Kick, kick, calcio, calcio a destra a sinistra. Cinque, sei, flick, stoma. Sì? Perfetto. E ora facciamo due punti, punta a destra, punta a sinistra. E facciamo il peso a sinistra. Con la destra facciamo un foot combination. Facciamo taco in croce, taco, diagonal a destra, e punta dentro della gamba a sinistra, e sì, a un capellero, forse, marcarlo così. Sì? Un poco in stile. Bene? Così la rosa non si dice. Continuo? Sì? Dopo di questo facciamo due passi avanti, destra, finistra, destra, sinistra, passo, destra, giro, e passo, destra. Sì? Continuo, eh? Perché è facile. Passo, 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 giro, passo. I passi, sinistra, pass, lock, pass, avanti. Pass, lock, pass, forse sinistra, perché manca una volta militare a sinistra con la destra. Volta militare. Sì, c'è così a Spagna, non so sì. Sì, c'è volta militare in Italia. Tutto con count? Sì? Sì? Sì, avete visto facile, no? Sì. Sì, sì, funziona. Sì, sì, giusto. Perfetto. Perfetto. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Da vittime. Parte i beati sempre, un po', non so perché, 哪 dello e ritornelo, ok? Allora, calma. Lo ripetiamo. 20 volte, 20.000 volte sì, allora finissimo nel passo giro, passo, passiamo il peso sinistra, e più facile del che? come si dice questo? più facile dello che serve bravo, eh? è normale, eh? allora, con la destra facciamo un kick in croce, kick in croce la sinistra facciamo un rock dietro, rock e un calcio allo stesso tempo con la destra, veloce e così, kick, passo kick, passo, kick, e con la destra facciamo il peso e facciamo lo stesso kick, croce, kick sì? allora, twist per kick, con la destra girando a sinistra quindi twist, per kick, appoggio, sì? e con la destra 2, 2, rock, back rock, back, rock, back dopo di questo è facilissimo io al vanno questo è lo più difficile 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 flamenco, sì? allora, con la destra facciamo un kick, stop flick, stop sì? facciamo il peso a destra e abbiamo punta punta, tacco e suivez a posto sì? dopo del suivez a posto facciamo tipico off-put combination del tacco punta tacco punta sì? prima di tutto tacco sinistra punta destra tacco destra punta sinistra e il ballo finisce facendo scut, scut mezzo giro a sinistra scut, scut lascio il peso a sinistra e es toma basta finito il ballo finito un bel applauso due mure no, forse quattro mure quattro mure di parte di B vedo un momento della musica dove c'è una A speciale allora iniziamo la A e guardando alle 12 1, 2, 3 4, 5, 6 6 di parte di punta punta kick kick passo sì? allora poi se guardando no lo so beh, non passa facciamo passo passo destra passo 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 giro passo e qui facciamo pass 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 sinistra pass pass e con la destra facciamo kick cross giro sì? questa è la modificata A con restart ok? iniziamo 1, 2 5, 6, 6, 6 punta punta tacco tacco punta restart ok? iniziamo di nuovo di nuovo viene questo muro normale e finisciamo con 3B già sta finito il ballo ok? quindi importante quando viene questa A particolare se la modificata subito A con rista con pelo passiamo a normale e 3B il ballo infinito sì? volano temporale here we go 2B 5, 6, 6, 6 e chi se sta 5, 6, 6, 6 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10 5, 6, 7, 8, 9, 10 parte mini 3 3 3 2 3 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 11 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 16 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 18 18 19